Passati giorni dedicati ai cenoni, per col diretti è ora tempo di bilanci. Numeri e abitudini sui quali pandemia, zona rossa e divieti hanno lasciato un segno. Tra Valtellina e Valchiavena il 90% degli abitanti ha preparato in casa i piatti della tradizione natalizia a fronte di un 10% che ha invece optato per cibi da asporto o consegnati a domicilio. Tavolate dai numeri ridotti, a meno di 4 presenti, in media, imbandite principalmente con prodotti o ingredienti nazionali. Gli italiani hanno speso quest'anno, secondo col diretti, 600 milioni di euro per pesce e carne ed ora, a un giorno dall'ultima delle festività natalizie, è proprio il settore alimentare delle feste il primo a finire in saldo, con ribassi fino al 70% di sconto per cotechini, panettoni e torroni. Delle feste particolari, delle feste difficili per le attività produttive e per l'agricoltura pure, penso soprattutto agli agriturismi e ai vitivinicoli che hanno avuto la difficoltà appunto di vendere le loro produzioni. Delle feste che però hanno riscoperto nei valtellinesi e nei Chiavennaschi la capacità di ricordarsi di vivere in un ambiente di montagna e di valorizzare le produzioni locali della montagna. Col diretti, tutto sommato, ha mostrato una certa coesione rispetto ad altre entità. Tutto sommato, la funzione di aggregazione funziona? Sì, io credo che l'agricoltura possa essere da traino in questo, proprio perché l'agricoltura, prima di tanti altri settori, è quella che mostra capacità di resistenza e di resilienza. Col diretti si è promosso delle attività anche di solidarietà nei confronti delle persone più in difficoltà. Parlo della spesa sospesa, piuttosto che degli interventi appunto nei confronti di chi in queste festività e durante questo periodo di Covid ha avuto le maggiori difficoltà anche nell'usufruire del cibo. La parola d'ordine con la quale Col diretti Sondrio guarda al nuovo anno è una ed è coesione. Sicuramente è necessario e fondamentale che ci sia una coesione tra tutte le attività produttive, tutti i settori, ma anche una coesione maggiore con le istituzioni, in modo che la Valtellina e la Valtia Venna vengano proposte come un territorio unito, coeso e in crescita. Mai come adesso è il momento di svegliarsi. Sì certo, questo è il momento in cui veramente dobbiamo dare un'immagine, ma non un'immagine di immagine, ma una reale coesione in vista anche delle Olimpiadi che ci saranno.